Credo che la squadra sia cosciente del momento e di come è maturato questa partita, questo risultato. Tutto quello che è una dispersione di energie negative dobbiamo cercare di evitarla. Dobbiamo utilizzare le energie che abbiamo per affrontare un avversario che è altrettanto tosto come il Napoli, che viene da un momento complicato. Siamo in due da questo punto di vista e vogliamo mettere in campo tutto quello che è nella nostra capacità per riscattare un risultato estremamente negativo e quindi dare soprattutto una prestazione di spessore. Abbiamo vinto in casa contro il Torino sapendo di affrontare una squadra che aveva determinate caratteristiche ma con un piglio e un'attenzione che sono state assolutamente positive. Questo deve essere l'atteggiamento anche di domani sera. Mancano dei giocatori importanti per loro, mancano dei giocatori importanti per noi. Hanno preso anche dei giocatori nuovi. Un giocatore come Bonaventura è un giocatore di discurso valore e quindi ha un peso specifico importante. Ma noi dobbiamo andare oltre. Dobbiamo sapere che comunque lì ci sarà qualcuno che ci darà il filo da torcere e noi dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Il fatto che abbiano perso tre partite vuol dire che li fa essere ancora più attenti, più incisivi, più concentrati, più determinati. Quindi questo sarà un ulteriore avversario per noi. Però allo stesso tempo sul piatto della bilancia dobbiamo mettere anche la nostra di rabbia. Così come ho detto poc'anzi riferendomi al Torino. Non ho la famosa rabbia Torino ma ci deve essere la rabbia anche del Bologna. Tutte le volte ci deve essere questa rabbia, una rabbia positiva, una rabbia costruttiva. L'ho detto anche domenica. Io vorrei giocare già oggi ma non solo perché devo riscattare il risultato ma anche perché è chiaro che domenica non si poteva perché Milano giocava domenica. Però già è il lunedì perché per me è anche una questione di misurarmi con loro anche dal punto di vista fisico. Vediamo chi è più forte fisicamente. Vediamo chi. Ma il gusto deve essere questo, di primeggiare in tutto. Non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista mentale. Il riscatto passa attraverso questo tipo di idea. Tutti sono pronti, tutti sono a disposizione, tutti hanno voglia di giocare. Se c'è qualcuno che non è così e mi accorgo che non ha questo tipo di atteggiamento è chiaro che è un giocatore che starà fuori. Perché queste sono le situazioni dove non ci si deve mettere paura addosso. Perché non c'è la necessità di averne paura di niente ma solo di aver voglia di dimostrare che quello è stato un episodio. Grazie. 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 Grazie.